Al Via Venezia la 73esima edizione della mostra del cinema, senza la cena di gala annullata in segno di lutto per le vittime del terremoto nel centro Italia. La Kermess sarà tenuta a battesimo dall'attrice italiana Sonia Bergamasco e inaugurata dal musical in concorso La La Land con Emma Stone e Ryan Gosling. Il Leone d'Oro verrà segnato il 10 settembre in Lizza per il prestigioso premio anche a Emerkosturizza, Terence Malik e Wim Wenders. Tre i titoli italiani in concorso, Piuma di Rohan Johnson, il documentario Spira Mirabilis di Massimo Danolfi e Martina Parenti e Questi giorni di Giuseppe Piccioni.